e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere un nuovo film corpo celeste in dvd cine città luce ecco qui l'immagine di copertina molto semplice un film scritto e diretto da alice rovarcher questo è il lato dell'ivd mentre questo è tutto il retro con tutte le le cose informazioni la trama alcune immagini del film corpo celeste film per tutti eccetera eccetera andiamo a vedere com'è l'interno del dvd molto carino con l'immagine di copertina di titolo copertina direi e questo piccolo manuale con varie informazioni molto bella questa cosa il dvd tutto nero e questo dvd mi piace davvero tanto sia per ricco di contenuti e roba varie e niente mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video